Grazie a tutti. Oggi abbiamo provato anche delle cose un pochino strane, proponendo la guerra come palleggiatrice per sfruttare magari l'attacco di Spasovievich e soprattutto cambiare un pochino la tattica del gioco visto che ci aveva un pochino inquadrato il nostro sistema. Però anche questo purtroppo non ha avuto buon esito. Penso che alla fine Bergamo ha strameritato di andarsi a giocare questa finale perché comunque è stata una squadra molto salda che non ci ha mai dato la possibilità di alzare la testa. E quindi questo ha fatto sì che loro potessero giocare in maniera abbastanza spedita. Il cambio di Aguero che hai messo nel ruolo di alzatrice per parte dell'incontro è stato di natura al 100% tecnica? O c'entrava anche qualcosa comunque la condizione fisica di OEC, l'hai fatta riposare? No, abbiamo provato il primo set a giocare in quel modo. Poi dopo a un certo punto ho visto che in un caso non stava andando bene, abbiamo provato da metà set a fare questo cambiamento. Ho visto che tutto sommato qualche segno positivo lo aveva dato perché comunque loro dovevano adattarsi un pochino a questo tipo di gioco un po' diverso. Allora ho voluto riproporlo anche all'inizio del secondo set con la speranza che magari ci fosse una possibilità di riaprire l'incontro. Però purtroppo anche questo non è bastato e ancora abbiamo fatto qualche errore di troppo banale perché è normale, tanto normale non è, però purtroppo ci può stare. Visto anche la gioventù che c'è in campo, bisogna veramente fare complimenti a loro per come si sono espressi in queste gare. Penso che non è che ci si poteva aspettare che facessero chissà cosa, però il loro lavoro l'hanno svolti in maniera grecia. Quindi alla fine potevamo tutti fare qualcosina in più, questo è sicuro, perché comunque qualcosa in più la squadra poteva fare. Però mi rendo anche conto che forse andando alle lunghe avremmo pagato sempre più questa situazione. Credo che Bergamo sia andata in finale merito da niente. Una parola sulle condizioni di Paola Cardullo che anche oggi non è scesa in campo. Anche se oggi la stagione per Novara è praticamente finita, anche in prospettiva futura, come vedi le condizioni? Adesso avrà, diciamo, del tempo per poter recuperare pienamente questi problemi, dovrà fare degli accertamenti specifici e trovare la cura a questo problema. Penso che comunque con il periodo di riposo che avrà adesso sicuramente riuscirà a sistemare questi problemi e a ritornare poi ad essere nata alla Paola Foglia. Perché purtroppo quest'anno lei ha sofferto molto, questo è vero, la sua assenza per la squadra è un'assenza importante, come credo sia determinata anche quella di Cristina Pir, perché comunque la nostra squadra è una squadra che aveva degli equilibri molto sottili e quando gli equilibri sono sottili vengono un pochino a mancare in maniera molto rapida e quindi è normale che un'assenza si potesse un pochino pagare, due assenze si pagano ancora di più e quindi l'assenza della Caglioni stessa, perché Raffaella anche stava giocando in maniera egregia, quindi sicuramente era un'opportunità in più per variare qualcosa sia a livello tecnico, mentale, ma soprattutto tattico e quindi alla fine la sfortuna non ci ha mai abbandonato quest'anno. Mi dispiace, sono molto rammaricato per questo perché penso che con la nostra squadra al completo ci saremmo potuti giocare alla grande questo scuretto e invece purtroppo siamo qua a spiegare. Quindi un'ultima domanda doverosa comunque dopo l'ultima partita di una stagione. Questo è stato il tuo primo anno a Novara, Novara comunque è uscita in semifinale in campionato, volendo elencare magari i risultati non raggiunti, non ha raggiunto la Fanafora di Coppa Italia, però sono state vinte due coppie, Supercoppa Italiana e Top Teams Cup. Se devi fare un bilancio della stagione e anche della tua stagione personale che hai vissuto qui a Novara, come la consideri? Personalmente per me questa è stata un'esperienza stupenda, ho vissuto insieme a una società che mi ha dato tantissimo, insieme a un gruppo di ragazze che mi hanno dato tantissimo e quindi per me è stata un'esperienza bellissima che spero di poter ripetere. Dall'altro canto, cioè da parte dei risultati, io penso che abbiamo ottenuto due obiettivi importanti, due della Supercoppa e della Top Team Cup, purtroppo ce ne sono sfuggiti altri due. Siamo arrivati alla Coppa Italia in un momento particolare, con una condizione particolare, dovuta a tante situazioni, però non è giusto trovare delle giustificazioni e comunque in quel periodo non stavamo giocando bene, abbiamo incontrato una squadra forte, anche lì forse se potevamo giocare la partita con Pesaro al completo probabilmente non ci saremmo ritrovati a giocare la semifinale con Perugia, scusa, il quarto di finale con Perugia e quindi potevamo avere un accesso alla Final Four più facile. No, poi dopo comunque una volta raggiunta la Final Four è normale che telegiochi, la vincitrice è una sola, quindi è sempre difficile quando si vanno a giocare le competizioni così. E per quanto riguarda invece questo scudetto, ne abbiamo già parlato abbastanza prima e purtroppo, ripeto, non voglio assolutamente trovare delle giustificazioni, penso che noi potevamo fare qualcosa in più, però mi rendo conto che Bergamo in questo momento ha qualcosa in più di noi e lo ha dimostrato nel campo, nel momento in particolare è sempre stata dominatrice. Grazie. 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 Grazie.